La Sissif Italia da tempo ha cercato di identificarsi come un'azienda che faccia comunicazione in maniera diversa, una comunicazione attenta alla persona, attento all'etica e attento alla responsabilità sociale delle imprese. Per questo, dopo una collaborazione con Negriza, Altra Economia, Valori, dopo l'incontro con Peace Reporter, con Valore Sociale, abbiamo deciso di confrontarci con la piattaforma web, questo social network che noi riteniamo assolutamente importante perché anche nel sociale c'è necessità di utilizzare questi nuovi strumenti di comunicazione. Noi saremo quelli che si occupano un po' della sostenibilità anche economica del portale perché faremo la raccolta, la selezione e la valutazione, purtroppo è necessaria anche questa, di chi vorrà fare pubblicità su questo portale, come sulle altre riviste del circuito che del resto già partecipano a Zoes.